Ma è stato un Pogba bellissimo, quello della Juventus la prima volta, è quello che abbiamo visto in nazionale francese. Secondo me ha sbagliato, come ha sbagliato Lukaku, la scelta di andare in Premier League. Lukaku se ne è partita amaramente, Pogba forse ancora più amaramente. E quello che è tornato alla Juventus non è Pogba, ma noi vediamo un giocatore che non è neanche il 10% di quello che era. E secondo me il problema non è soltanto tecnico. Quello che voglio dire a Pogba è di cercare di indovinare qualche scelta, perché negli ultimi anni le ha sbagliate tutte. Dall'andata a Manchester, alle mancate operazioni di quest'anno, alle situazioni familiari che non sono andate proprio esattamente come avrebbero dovuto. Ma ho paura che bisogna recuperare prima l'uomo e poi il calciatore, perché vederlo piangere per un infortunio muscolare è qualcosa che rende l'idea della fragilità in cui sta in questo momento Pogba per il suo ennesimo infortunio. In quel momento ho pensato, non a una cosa muscolare, ma a una cosa molto più grave, e che fosse finita la sua carriera. Spero che Pogba trovi un modo per essere salvato, perché è stata una delle cose più belle che ho visto nel calcio in vita mia. Grazie. Grazie. Grazie.